I canoni d'affitto a Trieste, in picchiata. La nostra città è il capoluogo di regione italiano dove i canoni di affitto sono diminuiti di più, meno 11,8% nel secondo semestre del 2013, con punte del 13,9% per i trilocali, dell'11,8% per i quadri locali e dell'11,3% per i monolocali. I dati emergono dal rapporto sulle locazioni 2013 realizzato da solo affitti, franchising immobiliare nella locazione con il supporto scientifico di Nomisma. Il trend nazionale è stato del meno 4,5%. A Trieste occorrono 491 euro per prendere in affitto un appartamento contro i 516 medi a livello nazionale. I canoni d'affitto sono inferiori alla media italiana sia per le abitazioni con garage, 540 contro 569 euro, sia per quelle arredate, 522 contro 558 euro. Si utilizza di più il contratto di locazione a canone concordato che consente affitti più bassi per gli inquilini e detrazioni fiscali per i proprietari delle case. In città viene impiegato nel 73% dei casi. I triestini che scelgono la casa in affitto come abitazione sono pochi però, il 18% contro il dato italiano del 46%. Per trovare una casa in affitto ci fogliono due mesi contro i 2,6 a livello italiano. Gli inquilini triestini alloggiano nello stesso appartamento in media per due anni.